3 2 1 go ciao ragazzo sempre posti monopattini vi faccio vedere una cosa mi raccomando non andate sui marciapiedi perché poi fate questa fine e non va bene per vi ricordo sempre di iscrivervi sempre ai seguenti canali mondo elettrico di facebook mi raccomando canale novità assoluta canale instagram il boss di monopattini fine canale youtube mi raccomando non serve solo guardare i miei video ma iscrivetevi tanto è gratuito non vi costa niente e ne vedete sempre delle belle bella lì guardate insieme allora come potete vedere qua si è spezzato la vite dentro adesso vi faccio vedere che purtroppo i ducati hanno questo cazzo di vizio che ogni tanto ok vedete io adesso qua devo trapanarla toglierla se riesco e basta poi metterci un'altra vite nuova ricordando a tutti quelli possessori di monopattini che questi monopattini compreso anche quelli grossi giganti tutto il manubrio tutto il manubrio lo tiene questa vite qua che quella trovate in differenti spessori queste da 4 il massimo che c'è e da 6 quindi mi raccomando i monopattini non sono moto da cross ok se non vi fate molto male guardate bene un altro ducati spezzato in due bella lì iscrivetevi e seguenti canali ciao